Dobbiamo tener conto delle nuove esigenze che si stanno presentando nei nostri territori. Naturalmente è assurdo pensare a una pista ciclabile nei paesi di alta collina, però nelle zone così come Montecchio io credo che sia il collegamento ideale non solo per fare attività fisica ma anche per andare nei posti di lavoro dove è possibile risparmiando chilometri di auto che viaggiano e immettendo meno CO2 nell'aria per cui è salutare sia per l'ambiente che per la persona che le usa. Abbiamo uno staff in provincia che lavora molto attivamente su queste cose, sono molto attenti per cui il mio grazie va all'ingegnere Primavera che ha seguito e a tutto lo staff dell'ingegnere Primavera che è veramente in questi casi sensibile a quelle che sono non solo una sicurezza nello spostamento dei pedoni e dei ciclisti ma anche sensibile alle tematiche ambientali. Questo è un progetto che interessa la strada provinciale 123 che collega l'Urbinate con la Monte Labattese. È un progetto che di fatto è di fattibilità tecnico-economica che è stato commissionato dalla provincia in sinergia con il comune di Vallefoglia alla lunghezza di estensione circa sui due chilometri e mezzo e abbiamo praticamente una stima dei costi ancora così preliminare quindi da raffinare intorno a un milione di euro. Ringraziamo la provincia perché la strada è provinciale però ha fatto il grosso del progetto noi abbiamo messo qualche soldo insomma insieme a Montalabate perché collega la strada 423 se non sbaglio i numeri con la Monte Labattese e collega due comuni, rende più sicura il tratto di strada provinciale già anche asfaltata quindi noi ringraziamo sempre quando si fanno le opere pubbliche nel nostro comune, nella nostra città che è una strada molto trafficata dal cimitero degli inglesi al ponte di Montalabate alla Montalabatese se uno va nelle ore di punta a mezzogiorno o alla sera c'è un traffico enorme quindi la pista ciclopedonale toglie una parte importante del traffico e rende più sicura anche le persone e quindi crediamo che sia un'opera buona, come dicevo adesso, a cercare le risorse per poterla realizzare e finanziare. È un progetto importante tenuto conto che si tratta di un tratto di strada dove c'è tantissimo traffico e quindi sarebbe opportuno realizzarlo proprio per mettere anche in sicurezza i pedoni ciclisti che transitano su quel tratto di strada. Voglio ringraziare personalmente la tenacia del sindaco senatore Palmirocchielli perché comunque lui è veramente un guerriero e non demorde fino a che non porta a casa il risultato.